I discoli del Sinarca non abbassano il tiro e continuano nell'opera di persuasione sui comuni che hanno concesso la servitù di passaggio al metanodotto Larinochieti, che dall'Abruzzo attraverserà diversi comuni del Basso Molise. Un impianto inutile e dannoso secondo l'Associazione Ambientalista di Guglionesi, che nei mesi scorsi aveva avviato a Montecilfone una raccolta firme tra la popolazione. L'intento è di scongiurare il passaggio dell'impianto nel Bosco Corundoli, uno dei polmoni verdi più belli dell'intera regione, un'area che ha sempre ospitato innumerevoli iniziative e che conserva ancora oggi la magia di una volta. Tuttavia poco distante dal borgo i picchetti sono già ben evidenti, l'area interessata dal passaggio del metanodotto è già stata delimitata, i discoli del Sinarca che hanno tenuto una conferenza stampa proprio al Bosco Corundoli hanno raccolto tantissime firme a Montecilfone e adesso chiedono di essere ascoltati dal sindaco. La raccolta firme è terminata da qualche giorno, il risultato è stato straordinario, in soli due mesi siamo riusciti a raccogliere circa 1500 firme, quindi la sindaco di Montecilfone non può ignorare la volontà dei cittadini, le firme nei prossimi giorni verranno consegnate al sindaco di Montecilfone Franco Pallotta, al presidente della regione Molise Donato Toma. Diventa però una lotta contro il tempo perché in tanti hanno già individuato l'area dove verranno posizionate le tubature dell'impianto. Nelle scorse settimane il SG, la società che realizzerà l'opera, ha iniziato a picchettare il tracciato del metanodotto Larino Chieti, siamo impegnati per cercare di salvare il Bosco Corundoli, una delle aree naturali più importanti della nostra regione. Nelle scorse settimane, svolgendo un'attività di ricerca, abbiamo scoperto che l'intera area è gravata da uso civico. Ciò nonostante il Consiglio Comunale di Montecilfone, con delibera numero 23 del 1 dicembre 2018, ha concesso la servitù di passaggio in questa area per la ridicola somma di 70.000 euro. Chiediamo al sindaco di Montecilfone Franco Pallotta di convocare il Consiglio Comunale affinché quest'ultimo si pronunci sulla richiesta di revoca e di autotutela della delibera in questione. Per i discoli del Sinarca la partita sul metanodotto Larino Chieti non è ancora chiusa. Nei mesi scorsi, insieme ad altri comitati di Abruzzo e Molise, è stato presentato un ricorso al Presidente della Repubblica e al Ministro per l'Ambiente. Per l'Associazione Ambientalista il Bosco di Montecilfone verrà deturpato da un'opera ritenuta inutile per i cittadini e per la salute degli stessi senza pensare alle possibili ripercussioni sull'ambiente. Il Bosco di Montecilfone verrà deturpato da un'opera inutile e dannosa sia per l'ambiente che per la salute dei cittadini. I lavori, particolarmente invasivi, comporteranno l'espianto di un numero elevato di alberi e piante di pregio.